salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi come avrete intuito dalla location una bicicletta un'auto e un pallone perché perché parliamo di lui un compressore a batteria ragazzi davvero davvero interessante e se dico interessante è perché davvero molto molto interessante ha delle caratteristiche secondo me da non sottovalutare e poi è un compressore ragazzi che da avere in auto e soprattutto anche a casa diventa comodissimo in tantissime tantissime situazioni ma detto questo prima di vederlo in azione guardiamo cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa allora subito troviamo lui il compressore della scese away dopodiché abbiamo una scatoletta dove al suo interno troviamo veramente veramente di tutto piccolo sacchetto con dentro i vari riduttori e vari tipi di attacco troviamo subito il tubo flessibile per il collegamento al nostro compressore con l'attacco per andare a collegarlo alle valvole dei dispositivi che dobbiamo andare a gonfiare dopodiché troviamo un cavo per la ricarica che è possibile collegarlo tramite l'accendisigari alla nostra auto poi abbiamo un cavo usb usb type c per la ricarica in casa appunto collegandolo ad un alimentatore per smartphone o al nostro pc e poi abbiamo un guanto bianco anche di qualità devo dire molto molto bello anche se io non l'avrei forse messo in confezione bianco per quando dobbiamo appunto intervenire sui pneumatici della nostra auto ed infine abbiamo un sacchetto dove inseriremo il nostro compressore per quando lo teniamo in auto o in garage o dove vogliamo tenerlo quindi ragazzi questo è tutto quello che c'è all'interno della confezione avete visto comunque la confezione ben ben fornita ma cosa ha questo dispositivo rispetto agli altri compressori ragazzi ha delle cose secondo me davvero molto molto interessanti allora partiamo dal display guardate quanto è alto perché ha un doppio display sì ragazzi adesso io lo vado ad accendere con il tasto qua centrale e vedete che abbiamo ragazzi doppio display qua sopra abbiamo quello che lui sta facendo quindi quando andremo a gonfiare vedremo i numeri salire mentre qua sotto abbiamo quello che è l'impostazione che abbiamo dato al nostro compressore sì perché lui ha quattro preconfigurazioni quindi abbiamo l'auto come vedete la moto la bicicletta i palloni e poi abbiamo un quinto parametro che è un parametro personalizzabile quindi potremo andare a personalizzarlo per averlo già pronto per qualsiasi cosa che vogliamo gonfiare che sappiamo che va gonfiato con quel determinato tipo di pressione avremo appunto la possibilità di averla già preconfigurato come quinto parametro però anche gli altri parametri che ci sono già preconfigurati non è che non sono modificabili infatti vedete che io adesso se vado a schiacciare m e vado su auto facendo più o meno vado a modificare il parametro che è preconfigurato poi con il tasto v possiamo andare a cambiare l'unità di misura del gonfiaggio io adesso vedete così vado a metterlo su bar e o 2.50 bar però se vado a fare più posso andare vedete aumentare 255 o diminuire quindi quello che è il parametro base non è che per forza base si può modificare però abbiamo già questi parametri preconfigurati una delle sue caratteristiche principali che lo rendono un compressore davvero super interessante sicuramente la batteria perché al suo interno abbiamo una batteria da 22.000 mini ampere quindi ci da tanto performance tanta durata cioè abbiamo veramente tutto quello che ci serve e poi un'altra cosa interessante sono le luci di emergenza qua sopra abbiamo una torcia che possiamo andare ad accendere per andare ad illuminare e poi qua sotto ragazzi diventa praticamente una luce che riesce a coprire un'area davvero davvero impressionante anche qua abbiamo tre tipi di potenza più un segnale luminoso rosso ma tra poco ve lo faccio vedere magari in una zona un po più buia di questa che qua non renderebbe secondo me l'idea per farvi capire veramente come è interessante anche da questo punto di vista perché quando stiamo lavorando sulla nostra auto al buio ragazzi questa illuminazione ambientale è fantastica anche la torcia di segnalazione lampeggiante rossa soprattutto se siamo in strada è davvero tanta tanta roba per quanto riguarda la sicurezza e queste torce sia quella superiore che quella che abbiamo sotto la base si attivano con questi due tasti e poi come ultima cosa visto che comunque abbiamo una batteria così grossa è anche un power back infatti qua sopra abbiamo vedete una presa usb dove potremmo andare a collegare il cavo del nostro smartphone per poterlo ricaricare se dovessimo avere l'emergenza di avere bisogno di una ricarica del nostro smartphone diventa un power bank qua abbiamo una presa type si che quella che abbiamo visto per la ricarica appunto domestica e qua abbiamo la presa per la ricarica tramite l'accendisigare quindi con l'alimentazione della nostra auto quindi ragazzi questo è tutto quello che è questo compressore della seggia way davvero davvero top allora per quanto riguarda il suo prezzo varia dai 40 ai 50 euro dipende appunto dal momento in cui amazon lo sta vendendo con i vari sconti coupon che potrebbe fare inserire quindi il prezzo come sapete non è sempre stabile quindi ragazzi vi lascio qua sotto il link di amazon se volete dargli un'occhiata poi acquistato su amazon con tutte le garanzie clienti date da amazon è sicuramente un prodotto da non sottovalutare ma con delle performance altrettanto altrettanto interessanti quindi adesso non perdiamo altro tempo e guardiamolo in azione perfetto allora iniziamo con il montaggio del tubo perfetto una volta che lo abbiamo avvitato siamo già pronti e operativi quindi andiamo ad accenderlo con il tasto centrale quindi in questo momento ho impostato su bar che l'unità di misura che voglio utilizzare io e non ci resta che andare ad inserirlo e schiacciare la leva vedete che adesso mi da 1.77 quello che sono le mie gomme attualmente e ho impostato 250 che è quello che di default adesso vado a dargli l'ok con il tasto centrale e inizia a fare il suo processo vedete che sta già iniziando a salire 1.80 a 250 si fermerà da solo siamo quasi arrivati 48 49 50 perfetto vedete che a 50 ragazzi si è fermato da solo non ho dovuto fare assolutamente niente quindi andrò a rimettere il tappino alla mia auto e il nostro lavoro si è già concluso quindi avete visto ragazzi con che semplicità abbiamo gonfiato la gomma della nostra auto adesso proviamo a gonfiare magari quello che è il pallone quindi vado a cambiare il parametro vado a selezionare pallone vedete ho selezionato il pallone quindi vado a prendere dagli accessori in dotazione l'ago quello che serve per gonfiare i palloni che abbiamo normalmente a casa lo vado ad inserire sempre all'interno del suo aggancio spingo la levetta verso il basso di modo che di andarlo a fissare vado a inserire l'ago all'interno del pallone alzo un pochino così non si ferma subito perfetto e vado a dirgli ok vedete che arriva in un attimo perché il pallone è già super gonfio però il senso l'avete capito come in un attimo potete gonfiare i palloni che avete in casa quindi qualsiasi tipo di pallone in un attimo l'avete gonfiato adesso direi che è arrivato il momento di provarlo con la mia e bike quindi andiamo a rimuovere l'ago che serve per gonfiare i palloni perfetto rimosso e proviamo con le bike allora per prima cosa andiamo col tasto menu a selezionare la bicicletta ecco selezionata la bicicletta quindi vado a allentare il tappo vado ad agganciare il connettore e vedete che mi da 1.51 e la misura di default è 3.10 adesso magari la basso un po così fa più veloce se no ci mettiamo troppo quindi poi dopo tanto adesso non mi serve che sia gonfia quindi lo vado a mettere a 2.05 e do il via vedete che sta salendo 73, 74, 75, 3, 4 perfetto ci siamo praticamente adesso ho la gomma della mia bici perfetta sì diciamo che secondo me i parametri di default sono un pochino alti però ognuno poi se lo può configurare avete visto col più o meno modificare il parametro base o altrimenti crearne uno anche personalizzato per magari gonfiare che ne so i materassini al mare il gommone cioè qualsiasi cosa del genere perché con questo possiamo gonfiare veramente veramente di tutto e quello è bello cioè dalla macchina che è la roba più impegnativa alla bicicletta alla moto ai gommoni della spiaggia ai salvagenti ai palloni da calcio cioè veramente di tutto con questo compressore della sheshaway cioè secondo me è un dispositivo che merita davvero davvero tanto per le prestazioni perché comunque spinge tantissimo e con i 22 mila mini ampere di batteria ragazzi ci permette di gonfiare più gomme e soprattutto di avere tanto performance quando lo andiamo ad utilizzare senza rischiare di rimanere senza batteria quindi davvero qualcosa di interessante da questo punto di vista adesso l'ultima cosa che voglio far vedere è il discorso dell'illuminazione che secondo me anche questo non è da sottovalutare è davvero davvero interessante ma per fare questo direi di spostarci un pochino più al buio perché qua abbiamo davvero troppa luce per provare a vedere per farvi vedere realmente cosa in grado di fare questo compressore per quanto riguarda l'illuminazione quindi andiamo perfetto ragazzi allora qua c'è un pochino più di buio anche se non sembra in realtà però rispetto a fuori c'è un pochino più di buio quindi con i tasti laterali possiamo provare le lampade se tengo premuto il tasto superiore vedete che ho acceso la torcia quindi una torcia davvero potente se vado a rischiacciarlo la torcia lampeggia quindi fa un segnale di sos se lo rischiaccio ritorna in posizione standard se la rischiaccio sos se la rischiaccio standard se la tengo premuta si spegne questa è quella superiore per andare appunto a illuminare magari un'area o se vogliamo che le sos venga sparato verso l'alto quando il nostro compressore è messo in verticale mentre la parte sotto che come abbiamo detto diventa una torcia che illumina l'area che va a illuminare un ampio spazio basta tenere premuto il tasto quello sotto e voilà ragazzi se io adesso la vado a appoggiare a terra creo questa illuminazione se vado a cliccare una volta vedete che adesso è aumentata ancora un po se clicco un'altra volta lampeggia di rosso che quello che vi dicevo a livello di sos di farci vedere che siamo fermi magari sul bordo della strada quindi c'è questo segnale rosso che lampeggia ma se clicco un'altra volta torniamo ancora nella luce bianca bianca più forte bianca ancora più forte e rossa abbiamo tre intensità di bianco quindi debole medio e forte e poi questa luce rossa intermittenza che ci dà appunto come segnalazione di pericolo perché magari siamo appunto fermi a bordo strada quindi ragazzi avete visto che spettacolo soprattutto che utilità che hanno anche queste lampade incorporate che abbiamo all'interno in questo compressore portatile a batteria della scena way davvero davvero top adesso però direi di tornare all'esterno per tirare le conclusioni diamo quindi ragazzi avete visto in azione questo compressore della scena way di cui vi lascio qua sotto il link in descrizione come vi ho detto trovate direttamente su amazon quindi un dispositivo che potete acquistare senza problemi con tutte le garanzie clienti amazon il prezzo varia dai 40 ai 50 euro dipende appunto dal momento in cui amazon lo sta vendendo con i vari sconti coupon che potrebbe fare inserire quindi il prezzo varia dai 40 ai 50 euro è sicuramente un dispositivo secondo me davvero super interessante anche per questo display doppio che ci fa vedere sia l'impostazione che gli abbiamo dato che i dati in tempo reale di quello che sta succedendo abbiamo i parametri preimpostati con macchine moto bici palloni da calcio più un parametro configurabile da zero anche se anche gli altri parametri sono modificabili quindi non sono fissi abbiamo queste torce veramente pazzesche che dal punto di vista anche della sicurezza e dell'aiuto che ci possono dare in determinate situazioni sono davvero davvero super utili diventa anche un power back nel caso dovessimo rimanere senza batteria del cellulare cioè veramente un super super compressore gonfiamo praticamente di tutto auto moto bici palloni da calcio canotti salvagenti qualsiasi cosa vogliamo gonfiare lui è in grado di farlo questo compressore della scelta voi quindi ragazzi se questo mio video in cui ho portato lui il compressore della scelta voi vi è piaciuto lo avete trovato utile ed interessante lasciate un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale vi invito anche a seguirmi sul mio canale telegram usati poco da un nerd e mezzo dove carico tutti i prodotti che non tengo per me quindi li rivendo a prezzi davvero davvero super scontati sono praticamente nuovi sono usati per la recensione quindi potreste trovare l'affare che stavate cercando ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale youtube e non perdere neanche un video una recensione un testo un tutorial o una novità ciao e al prossimo video